Non c'è l'intenzione di fare sconti a nessuno, stiamo affinando alcuni meccanismi nella lotta alla mafia per seguire flussi di denaro e incoraggiare e supportare l'attività degli inquirenti. Il governo potrà agevolare e fare tutto il possibile perché gli inquirenti possono andare avanti. Così oggi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palermo. Dal nostro angolo di osservazione la mafia è sicuramente cambiata, aggiunto, è meno violenta. Questo appare agli occhi di tutti. Stamattina c'è stata una grande operazione antimafia con poco più di 100 arresti e sono tutti legati alle dinamiche del volto della nuova mafia, apparentemente meno visibile ma che permane nei gangli vitali della nostra società. La mafia, continua il ministro Piantedosi, va combattuta in quanto tale e bisogna farlo anche attraverso un impegno civile diffuso. Ci incoraggia la visione di Falcone quando diceva che la mafia è un fenomeno umano. Eppure, ha affermato il ministro, la vicenda di Matteo Messina Denaro indica che esiste una zona grigia, una melassa a cui ci dobbiamo ribellare e l'impegno di tutti noi e della società deve servire affinché la borghesia mafiosa si vada sempre più assottigliando. Il ministro ha deposto una corona di alloro davanti alla stella di Capace per rendere omaggio a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti di polizia vittima della strage mafiosa del 23 maggio del 92. Quindi ha poi partecipato nella caserma della polizia di Stato Lungaro a Palermo alla presentazione del libro Non ci avete fatto niente di Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio Montinaro.